A Pesaro sale a quota 170 milioni di euro lo stanziamento per le opere compensative alla realizzazione della terza corsia della 14 e quanto annunciato dal sindaco Ricci e dall'assessore Mila della Dora in seguito all'approvazione in giunta dell'atto aggiuntivo della convenzione del 2013. Un documento originario che fu siglato dall'amministrazione con società autostrade insieme a provincia e regione che stabiliva 74 milioni di euro per le opere compensative all'ampliamento della 14. Oggi lo schema viene aggiornato superando i 170 milioni che consentiranno anche il recupero degli interquartieri stralciato nella precedente fase. L'aggiornamento del quadro economico vecchio di 11 anni dà dunque risposta all'aumento dei costi per le lavorazioni, all'inflazione e al rialzo delle cifre per gli espropri. Terminato in aprile l'interquartieri di Muraglia si procederà poi con la bretella di Santa Veneranda, il raddoppio dell'Urbinate e la Fratelli Gamba che dalla Monte Labattese si collegherà all'attuale casello. L'ultima opera sarà il casello unidirezionale di Santa Veneranda.